Si è svolta ieri nell'aura magna del Max Fabiani di Trieste la premiazione dell'undicesima edizione di Questa Volta Metti in Scena il Cuore, apertasi con la proiezione del video della classe terza B e la maestra Giuliana Fedele della scuola primaria Ippolito Nievo di Premariacco, in cui i più piccoli si sono espressi su cosa sanno del cuore. Ecco gli interventi della capodelegazione FAI di Trieste, Mariella Marchi, e del cardiologo dottor Giorgio Faganello, insieme all'associazione Cuore Amico di Muggia, per i nuovi punti di vista sul cuore. L'ampio progetto diretto da Lorena Matik, con l'organizzazione dell'associazione culturale Opera Viva, rivolto agli studenti delle scuole superiori della regione e del litorale sloveno, ha visto una partecipazione di quasi 500 ragazzi, tutti impegnati nel concorso e partecipare agli stage formativi tenutisi a Trieste, al liceo artistico Nordio, a Udine al liceo artistico Sello e a Capodistri al ginnasio GR Carli, con i visiting professori Lara Geranco, Marconi, illustratrice Maurizio Melozi, fotografo attivo nel campo della moda e Paola Russo, art director, con un'esperienza ultraventennale in campagne pubblicitarie internazionali. Professionisti ed esempi di sana creatività con cui si è voluto creare un collegamento tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro. Il tema della undicesima edizione, il cuore, che evoca immediatamente il simbolo per eccellenza dell'amore in tutte le sue accezioni, materno, passionale, fragile, imprevedibile e sofferente, ha portato ad analizzare anche la simbologia che il cuore assume nell'arte, nella pubblicità, nella moda e nell'iconografia religiosa, ma come è prerogativa di sempre del concorso, il cuore è stato analizzato in tutte le sue accezioni. Sono stati premiati i primi tre di ogni sezione, disegno, pittura, fumetto, collage, grafica, fotografia, video, mixed media e textile. Si inaugurerà la mostra dei vincitori e si presenterà il manifesto, con pubblicate le opere premiate. Il progetto si realizza con il contributo della Regione Assessorato alla Cultura, la Fondazione CR Trieste, la Uni Cusano, la ZKB, con le pressioni e collaborazioni del Comune di Duino Aurisina, il Comune della Città di Capodistria, la Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini Pirano, il FAI Delegazione di Trieste, la Fondazione Lelio Luttazzi, la Oblane Gallerie Piran e il Max Fabiani De Ledda, scuola capofila fin dalla prima edizione.